Bella raga, qui Zeus, benvenuti qui su Call of Duty World War 2 E oggi raga, siamo un pochettino strani Infatti, come potete vedere, non c'è lo sfondo Almeno, ci sono le linee dell'armadio praticamente Però, come primo video mi sono organizzato un pochettino come potevo Quindi, godetevi per ora questo video di qua Penso che già dal prossimo Attenzione, è bella questa Già dal prossimo ci sarà lo schermo tutto uniforme Praticamente, dopo scusate se tipo qua, accanto a me Attenzione, però se mi prendi in headshot Mi viene un pochettino male Scusate che questo costo dietro alle spalle Cioè che lampeggia praticamente Però, questi di qua sono i mezzi tecnici Guardate qua che camper, che schifo Dai, muoricci un po' 7-7, giochiamoci questa partita Su Warden's Forest Bellissima qua Ci sono un raga con un sacchissimo di cecchini Quindi, prestiamo un pochettino di attenzione Io ho preso il fucile d'assalto Praticamente Uh, me l'ho lasciato lo stordente Grandissimo compagno che viene qua a darmi sostegno Ok, ok, perfetto, fantastico Ok, va bene, va bene Dopo raga, ditemi Ovviamente se vi piace questa cosa Del chroma key Si chiama chroma key Praticamente con il green screen Io ho il blue screen Perché ho due pareti Praticamente le due ante dell'armadio blu E ho aggiunto Come l'ho ucciso? In headshot, così, va bene E ho aggiunto Un panno, praticamente Un panno blu Uh, ma questo di qua? Ok, ok Crepa c'è anche Va bene Va bene, va bene Eh, va bene Quello di là col cecchino mi squaglia Ovviamente Ehm, quindi vi stavo dicendo Che già, secondo me Dal prossimo video Ci sarà un Un green screen Fatto bene Un Uh, attenzione Uh, calmi Calmi Beh, vabbè Quanti cavolo sono? Raga, stanno in tre Questo ce lo faccio a farmelo Così, bellissimo Uno Vediamo dove Mi vado a prendere l'altro Se l'è preso il mio compagno Grandissimo Qua dov'è? No, dietro di me Eh, vabbè Va bene Va bene Allora, andiamo da questa Andiamocelo a prendere Da qua È entrato Questo non ho più Qualità No, non è entrato Non lo sono preso io Prima che Dov'è? Dov'è? Ecco il cecchino Sì, mannaggia Come l'ho preso in headshot Però c'è Dovrebbe essere un altro Quindi, presto attenzione Non viene Va bene Va bene, va bene Non viene Allora me lo vado a prendere io Tanto ora Spunterà sicuro Ecco qua Era scritto Va bene Allora, vediamo qua Uh, calmo Eh, vabbè Raga Questo col cecchino È devastante Davvero È 9 kill È 9 kill È primit Ci sono 11 kill Di differenza Ora non più 11 Meno male Meno male Raga, quello di là Mi squagliava Se Se non ci fosse stata La claymore Quindi vai qua Eh, vabbè Quanti hitmarker Però Dai 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 Hai sempre 9 kill Dai Ok Dai 10 kill 10 kill Di differenza Tra noi E l'altra squadra Attenzione Qua Ho fatto un drop Totalmente casuale Eh, vabbè Con questa E c'è l'altro Cioè Non posso fare tanto Eh, dai 10-7 Quelli di là Stanno giocando pure in team Tra l'altro Due stanno giocando in team Dai, dai, dai Dai, però Cecchino Devi amarirci Amarirci Cioè Se io ti sparo Tu mori È classico No Va bene Va bene È l'altro Cecchino Quanti Quanti c'è In questa partita Negli avversari Cecchini Boh Una quantità Indefinita Dai Allora Vediamo da questa Andiamo da questa No, sto scherzando Qua vado ad aiutare Un secondo i miei compagni Eh, vabbè Guarda qua Dai, dai Crepa Ci ha anche Dove stanno A sinistra A destra A destra Eh, può venire anche da lì No, no Non sta qua Eh, vabbè Quanti sono lì Eh, mettilo là dentro Ottimo Ritorna indietro Un secondo Bellissima Kill Con la granata Lanciata totalmente Tra virgolette A caso Perché Là Era quasi sicuro Che faceva una kill Perché Cioè, dai Stavano in quattro Qui Quindi Bellissima Bellissima Compagni Ho usciato in quattro Qui si era quello Quindi non poteva fare molto Bella lì Qua viene qualcun altro Viene qualcun altro Lì ho giro No, devi girare però Da qui Uh, calma Calma Calma, calma Non ti agitare Mannaggia Qua era dietro Non male Cosa? Cosa è successo di preciso? Com Non ho capito Com'è che mi ha preso così? Va bene Ok, ottimo Fantastico Favoloso Ehm Qua non vedo nessuno C'è il mio compagno No, no Dove è? Dove stanno tutti? Dai che manca davvero poco Mancano 15 kill alla fine E se poi io faccio 40 Mark E ancora Dai, dai Qui dove mi potrei mettere Uh, attenzione lì Attenzione Bravissimi Bravissimi compagni Ve lo fatti così In questa maniera Dai Vediamo qua Se stanno No, no Non ci sta nessuno Lì Eh, vabbè Ci sta il mio compagno Meno male Che se l'è fatto lui Dai, dai, dai Mannaggia Oh, raga Sto check-in è devastante Comunque Dai, dai, dai Crepaci tu Eh, l'altro pure a sinistra Non posso fare tanto 67 Abbiamo fatto 16 kill Raga, siamo primi Grandissimo Manca davvero poco Alla fine della partita Ehm Non so se Loro possono recuperare Perché Cioè, dai Gli abbiamo dato un distacco enorme Ci mancano 4 kill alla fine Però, dai Crepa Crepa Bellissima Bellissima compagno Meno male che, raga Cammino sempre Con qualche compagno dietro Che status è fantastica Vediamo Da qua Bellissima kill Ultima kill alla fine Ultima kill Dove stanno? Dove sta? Uh, sta qua Sta qua Lo prendo io Ok Mi è fermata alla fine Ok Fantastico, raga Comunque Ditemi se questo video Se questo episodio Vi è piaciuto Lo so che è un pochettino corto Però, dai Ehm Come primo video Con il chroma key E quindi Accettatelo Ehm Comunque raga Di riappure questa partita Questo episodio E tutto Vi ringrazio Tenti Vi ringrazio Vi ringrazio Di un bellissimo like Se vi è piaciuto Questo video Commentarlo Ditemi se questo di qua Vi piace Ovviamente dal prossimo Cioè quante volte L'ho detto Quattro Ehm Sarà Più sistemato Praticamente Ora l'ho fatto Un pochettino di corsa Tra virgolette Ehm Comunque 17 kg 11 morti Ehm Ehm E' stata una bella partita Ehm Ditemi ovviamente Se vi piace Questo di qua O se no Torno a quello normale Praticamente Raga Ci si becca A un altro appuntamento Qui Il vostro Zeus Bella bombera Alla prossima Ci si becca In un altro video Mi sono scordato pure Di salutare Va bene Siamo arrivati i primi Grandissimo Alla prossima Bombera